E rieccoci qui insieme. Allora, occupazione abusiva immobili Arca Puglia. La regione si costituisce parte civile. Quest'oggi il presidente Emiliano sarà presente all'udienza. L'amministrazione regionale si costituisce parte civile nel procedimento relativo alla invasione arbitraria e all'occupazione abusiva degli immobili di proprietà di Arca Puglia avvenuta nell'anno 2019. Evidenzia il presidente Emiliano che l'amministrazione si costituisce a fianco della sua agenzia. Le indagini sono partite da una specifica denuncia di Arca Puglia centrale in ragione della occupazione abusiva nel quartiere San Paolo di Bari perpetrata da ben 34 diversi soggetti oggi imputati su 20 sale condominali di altrettante palazzine Arca al fine di trasformarle in vere e proprie abitazioni. Noi ne parliamo questa mattina con il segretario nazionale del SUNIA Nicola Zambetti. Grazie segretario per essere tornato qui con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, partiamo da questa notizia. Questo è un argomento di cui noi ci siamo occupati tantissime volte. Occupazione, creazione dalle sale condominali di veri e propri appartamenti e soprattutto al San Paolo. Io ricordo anche alcune passeggiate che ci siamo fatti lì insieme, credo nel 2019. Insomma, un argomento, ripeto, un fenomeno di cui ne abbiamo parlato spesso. Io ricordo i numeri per intervenire in diretta. 080 501 4668 per le vostre telefonate e 9998 invece per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Partiamo da qui. Intanto come vuole commentare? Allora, intanto è un fatto positivo. L'abbiamo sempre denunciato, però bisogna mettere insieme anche le forze perché queste cose non continuino. Alcune di queste famiglie probabilmente hanno anche avuto l'assegnazione di alloggio pubblico, però non si è continuato, come ha scritto il bene il comune nelle sue deliberazioni, a liberare quella sala condominiale e a tenerla. E quindi si liberava e andava a occuparne un'altra. Allora occorre che le forze, le amministrazioni pubbliche, quando fanno queste cose, si coordinino e fanno interventi che risolvono il problema e non che viene sostituita una famiglia con un'altra. Bene la Costituzione in giudizio, è necessario adesso rigenerare quel quartiere, ci sono delle risorse, bisogna fare in modo che chi ha occupato quelle case, quelle sale condominali o quei porticati e li ha trasformati in appartamenti molto belli, diciamo che non gli si dia alcun diritto insomma. E non è solo su San Paolo che c'è questa cosa. L'Arca ha speso tanti soldi anche per liberare delle sale a Iapigia, ha portato le forze dell'ordine per eseguire quegli sgomberi, ma poi non è successo niente. L'immobile è ancora lì. Anche perché noi oggi leggiamo questo numero 34, per carità, come le ha detto, è un'ottima notizia questa, però è ovvio che i numeri, come anche li abbiamo visti con i nostri occhi, sono molto più alti. I numeri sono molto più alti, comunque va dato un segnale forte, va dato un segnale che lo Stato c'è, che la presenza dello Stato significa regole, legalità e che nessuno di noi è autorizzato a occupare i spazi pubblici per propri interessi e soprattutto sfruttare la povera gente che ci abita sopra, che è costretta a pagare i servizi in più, l'acqua in più e a tenere a volte non dei fastidi ma delle illegalità. 080 501 4668 è il numero per intervenire in diretta. Segretario, lei l'ha detto poco fa, questa è una questione che riguarda diverse zone della città di Bari, oggi si parla di San Paolo. Siamo in un momento particolare della città di Bari, non soltanto per quello che oramai viene chiamato il caso Bari, ma anche perché siamo in prossimità oramai delle elezioni. Questo è un tema di cui si deve far carico il candidato sindaco, qualsiasi candidato sindaco, perché spesso sentiamo dirci che non è competenza comunale questa. È vero, è vero. Però, le lascio subito la parola, una telefonata, pronto? Buongiorno. Ciao Maria, buongiorno. Allora, 34, cioè è proprio un numero da giocare al numero, diciamo, i numeri che giocheremo, non so quando è che si giocano. Allora, qui non è un problema di affittare, di prendere queste case, queste cose, le sale condominali. Io ripeto, e ho già parlato con lei in un'altra occasione, quando le dissi che ci sono, allora, in primis ci sono persone benestanti, addirittura direttori di banca, che vivono nelle case popolari. Allora, io mi chiedo, quando vanno a fare il 7,30, il 7,40 per pagare l'affitto o il censimento? Ma questi dell'Arca non si accorgono chi vive in queste case, punto primo. E lei mi disse, vabbè, quelli vanno a pagare, quelli che pagano di meno. Non deve essere così, perché la casa popolare deve essere data a chi ha veramente bisogno. Uno. Due. Quando si vendono, ripeto, ci si vendono le case fra assegnatario e il figlio di, il cugino di... E i vigili urbani, ripeto, vanno a dare la residenza. Come funziona sta cosa? I vigili urbani e l'Arca. L'Arca deve fare un censimento a tappeto. Qualchiere per qualche liberare, liberare le case per non costruirne altre. Grazie, grazie Maria per il tuo intervento, segretario. Allora, ho un po' di domande che mi sono state fatte. Intanto, chi vi parla è dalla parte della gente che abita nelle case, ritiene che bisogna riportare legalità nella gestione del patrimonio pubblico e da anni ormai, molti anni sono diventato vecchio, mi batto per questo. Allora, il problema vero è come si gestisce il patrimonio pubblico, quale incontro c'è tra Comune, Arca, Regioni, Forze dell'Ordine per debellare le occupazioni abusive, come noi non siamo più tolleranti. noi siamo troppo tolleranti, cioè lo diciamo qui, poi giriamo la testa e le cose continuano. Non è possibile. Noi dobbiamo cominciare a fare nome e cognome di chi occupa abusivamente gli appartamenti, di chi ha avuto l'assegnazione in modo illegittima, di chi occupa l'appartamento con redditi alti, ma se uno era povero e poi si è fatto una vita e è diventato un po' più ricco e non è direttore di banca, non può comprarsi una casa, diciamo che uno ha un reddito di 30-40 mila euro, è giusto che rimanga in quella casa, paghi i canoni e i servizi di mercato e andiamo a integrare, a fare un mix tra chi paga poco e chi paga in modo da Quindi la domanda è se vengono fatti degli aggiornamenti periodici? Allora, gli aggiornamenti periodici vengono fatti, tra l'altro l'Arca di Bari è il migliore Arca da questo punto di vista della Regione, in quanto ha in rete tutta l'anagrafe dei residenti in quegli alloggi con i redditi fiscali, quindi hanno fatto in passato le diffide a chi ha superato il reddito di 50 mila euro e hanno anche avviato le pratiche, dopodiché guardate, io sono per mettere un numero verde in cui la gente ci segnali queste cose qua e poi avviamo i percorsi di controllo e di verifica, questo è quello che va fatto Se qualcuno al Comune ha dato un cambio di residenza a una famiglia, bene, lo dobbiamo denunciare perché la legge non dice che chi occupa abusivamente l'appartamento non ha diritto ad avere il cambio di residenza, bene, aiutateci Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno Sì, buongiorno, volevo portare un po' la mia esperienza in un caso di occupazione abusiva di un alloggio popolare, io sono un legale, sto seguendo una famiglia che risulta assegnataria dal 2008 di un alloggio su Bitonto e praticamente per cinque volte comunicavano che l'alloggio era disponibile e puntualmente il giorno prima veniva occupato, quindi ci troviamo, ci siamo trovati nel corso degli anni puntualmente l'intervento dei vigili urbani che acclaravano effettivamente che c'erano degli occupanti abusivi. Il problema è che rispetto a queste segnalazioni mai nessuno è intervenuto, salvo di recente nel 2022 quando ho preso in mano la questione, ho chiesto ad Arca di attivarsi, qualcosina è stata fatta ma c'è un problema enorme e su questo sono d'accordo anche su quello che dice il vostro ospite, che c'è comunque uno scollamento tra l'istituzione e anche lo stesso sistema giustizia perché non è possibile che fare un accesso con un ordine di liberazione in mano venga fatto ogni sei mesi, è semplicemente in orari in cui si sa, perché ovviamente sanno chi abita in questi alloggi, non trovano nessuno, quindi praticamente siamo in continuazione alla ricerca di un immobile, tra l'altro persona con disabilità accertata con verbale IMS, figlio minore, una situazione veramente tragica che ci ha portato anche ad andare a un programma nazionale a disporre il nostro problema, abbiamo avuto finalmente un po' di ascolto da Arca, però ripeto ci sono sempre queste problematiche legate all'effettivo rilascio dell'appartamento, addirittura ci hanno risposto che non è possibile che l'immobile venga rilasciato perché l'occupante abusivo ha fatto una richiesta di sanatoria, cosa assurda, perché viene preferito un occupante abusivo rispetto a un assegnatario in base a una graduatoria. Grazie, grazie per aver condiviso con noi la sua esperienza. C'è un problema di riportare legalità in questo ambiente, c'è un problema di coordinamento delle istituzioni, molto spesso succede che non si libera l'appartamento perché poverina la ragazza di 17 anni che ha occupato l'appartamento è incinta e quindi ha più diritto a rimanere quella in casa che chi ha atteso dalla graduatoria. C'è da riportare giustizia in questo settore e nessuno è escluso. I comuni hanno l'obbligo di seguire il problema dell'edilizia pubblica, le assegnazioni competono esclusivamente al sindaco e quindi è necessario che nei comuni venga istituito non solo l'ufficio casa che in molti comuni non c'è, oppure viene data la delega a un dirigente ma senza i dipendenti e senza le persone che possono seguirlo, ma è necessario avere anche un coordinamento all'interno di quell'assessorato, di tutte le forze istituzionali per debellare e gestire bene il patrimonio pubblico. In questa campagna delle primarie il problema della casa è stato messo al centro dei due programmi. È ovvio che bisogna dare una svolta. Molte cose si sono fatte, ma bisogna fare un passo in più. Ecco, cosa manca ancora? Ma intanto manca un'idea di città, perché non possiamo pensare che il problema del diritto alla casa possa essere risolto solo dal pubblico e ognuno fa quello che vuole della proprietà. Intanto bisogna capire che città vogliamo domani. Una città in cui tutti fanno il B&B, prima o poi questa questione scoppia, o tutti quanti ristrutturano l'immobile, ci mettono l'idromassaggio perché un B&B, io non so se un B&B, l'idromassaggio in ogni stanza sia una comodità o una cosa che serve al turismo. Bisogna avere un'idea della città e il pubblico deve avere un ruolo importante su questa città. Non si può assistere all'espulsione delle famiglie della città, quelle che non possono più, non trovano casa. Guardate, trovare casa nell'area metropolitana di Bari, ma io credo in tutta Italia, è un dato che viene fuori, è impossibile trovare una casa in affitto, pur avendo soldi per poterlo pagare. Segretario, la fermo solo un attimo perché lei mi sta dando un assist perfetto perché noi abbiamo parlato, abbiamo parlato tante volte qua insieme della questione anche che rientra nel fenomeno che lei sta raccontando, che è quello per esempio dello spopolamento di Bari Vecchia, insomma queste aperture indiscriminate di bed and breakfast, quindi tantissimi sfratti, insomma le persone non vengono rinnovate i contratti d'affitto, mettiamola così. ieri all'interno del nostro telegiornale abbiamo raccontato questa storia, la storia di Giovanna, 82 anni, Bari Vecchiana, DOC, ha sempre vissuto lì, adesso invece è costretta a cercare casa altrove. Allora guardiamoci insieme il servizio e lo commentiamo. Signor Giovanna, da quanto tempo vive a Bari Vecchia? Non sono mai andata da nessuna parte. Nata e vissuta a Bari Vecchia, Giovanna ha delle sgagliozze, così è sempre stata conosciuta dalle sue parti, non ha nessuna intenzione di abbandonare il luogo che per lei è sempre stata casa. 82 anni, vacantina si direbbe a Bari, Giovanna è stata raggiunta da un avviso di sfratto e ora non sa dove andare. Ed è per questo che ci chiama, insieme all'amico Michele Fanelli, per lanciare un appello. Serve una casa che l'accolga, anche un sottano, basta che sia nella sua amata Bari Vecchia. Ci racconta la sua storia, o almeno ci prova, visti i problemi di udito, ma su una cosa non alcuna difficoltà nel farsi capire alla perfezione. Tu, tu non andresti mai fuori da Bari Vecchia? No, ma se tu, a Bari Vecchia voglio dire, non mi voglio fare nessuno avanti. Si unisce a lei Michele Fanelli, presidente del circolo Acre Idalfino, che da tempo prova a trovare una soluzione, ma al momento senza alcun risultato. Io sto facendo il possibile che questa donna non vada via dalla città vecchia, perché questa è nata qui, pasciuta, cresciuta, è sola, non ha nessuna, è signorina grande. Nasce così l'idea dell'appello, chiunque voglia, chiunque possa. Giovanna è autonoma, la seresce con le amiche e ci racconta, ma intorno alle 20 si torna a casa, o si fa tardi. Un caso non isolato il suo, e che si inserisce nel fenomeno più volte denunciato dello spopolamento di Bari Vecchia. E ora a questa età, ditemi di grazia, dove andrà a morire questa donna? Ora addirittura gli hanno detto, ti chiudiamo in una casa di riposo, ma stai mai scuendo. I tuoi ricordi dove a Bari Vecchia, perché tu non vuoi usci? Perché ti chiede a niente dove? E sono andato da Bari Vecchia. I tuoi ricordi, le cose più belle, i ricordi di tua madre, il vissuto. Ma la Jacmo, perché io non mi ricordo più. Un ricordo che c'è? Di un fatto che si fanno il scagliore? Il scagliore, sì. Di quant'anni si fanno il scagliore? Io avevo, aspetta, stava giù, io facevo, giù avevo 28 anni. Ma, 28 anni, sono 62 anni. Poi, da giù, andare là. Guarda a me, Giovanni. Andiamo fino a... A 10 anni fa, si è fatto il scagliore. Eh sì, perché poi da là c'è l'andata l'altro giorno. Ora, noi abbiamo voluto raccontarvi la storia di Giovanna, ma è ovvio che la storia di Giovanna è la storia di tantissimi a Bari Vecchia. Abbiamo una telefonata e poi la faccio commentare. Segretario, pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Salve signora, buongiorno. Buongiorno. Io volevo, insomma, questo è un caso emblematico della cosa veramente che fa male al cuore. Ma le istituzioni, ecco, lei come, insomma, dirigente, adesso mi dice a trovare per un qualcosa, farla rimanere in loco. Perché ha 82 anni, non si può, si è soli. A me è dispiaciuta vederla quella signora. Lei cerchi un po' di fare qualcosa, oppure si rivalga alle istituzioni più in alto, perché non è giusto vedere una persona del genere, diciamo, chiedere l'emosina per una casa. No, non è giusto. Grazie, grazie alla nostra ascoltatrice. Segretario, spopolamento di Bari Vecchia. Non è giusto che le famiglie vengono, le persone vengono cacciate, usiamo questo termine, dalla propria storia, dalla propria identità. Non è giusto che per vivere... Ovviamente io lo dico giusto per mettere anche tutti i puntini sulle i, che i proprietari hanno il diritto di farlo. Quindi, insomma, non stiamo parlando di niente di illegale, perché poi finita una locazione, ogni proprietario è libero di fare ciò che vuole del proprio immobile. Certo, questo è. Non è giusto che chi non ha avuto la possibilità di comprarsi casa venga poi messo fuori, perché è mancata nel nostro paese una politica per far vivere le persone a canoni sostenibili e accessibili nelle città. Questo è quello che sta succedendo. Ora, quella non è sola, ce ne sono tante. Ho anche assistito nei mesi passati a nipoti che hanno preso i nonni e li hanno spostati nelle RSA per poi il sottano trasformarlo in B&B. Perché una parte di quelli B&B sono nei sottani, no? E quindi c'è tutto un problema della sicurezza, di queste attività nate come funghi senza regole. E io credo che sia veramente difficile nel momento in cui è mancata una politica per l'affitto. Abbiamo 30 secondi, segretario. Per l'affitto, dire la soluzione è la seguente. Mi auguro che, e sono convinto che al comune qualcuno si stia rimuovendo, però se non c'è una proprietà che chiede regole, lo sono loro che devono chiedere anche le regole, per aprire le attività, queste attività commerciali, noi rischiamo nei prossimi anni di avere una città per ricchi, ma una bolla che scoppia. Perché quando hai turisti, non si danno servizi sicuri. Quando hai turisti e si pensa che il turismo sia la soluzione di tutti i problemi, porta ricchezze. Non abbiamo visto che tutti quanti si sono arricchiti, anzi, c'è un'evasione fiscale molto ampia su cui bisogna anche qui lavorare. Perché questo turismo porti ricchezza certificata di numeri e non risorse alla pubblicizzazione. Torneremo a parlare di questo tema. Grazie, grazie come sempre, per la disponibilità al segretario nazionale del Sunia, Nicola Zambetti. Grazie mille, segretario. Davvero qualche istante di musica. Torniamo subito con altre notizie.